Abbiamo qui tre progetti, il Resign Tree che è un concept applicato alla raccolta differenziata che spesso è problematica, quindi abbiamo sviluppato un concept di sensori low cost che sono in grado di riconoscere diversi materiali e quindi passando la mano qua sopra il secchio si apre, questo secchio accetta solamente plastica, quindi in questo caso lui ci dice riciclate una bottiglietta, la natura ti ringrazia e vediamo i contatori che si modificano quindi noi sappiamo dall'inizio di questa mattina ad esempio quanto CO2 abbiamo risparmiato quante energie e quant'acqua abbiamo risparmiato riciclando correttamente del materiale nel caso invece buttiamo del materiale scorretto per il secchio, in questo caso una lattina di alluminio il secchio riconoscerà che il materiale è sbagliato e ce lo rispuderà fuori dandoci anche un messaggio che ci dice di controllare meglio e ci insegna come riciclare correttamente il materiale per 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 il materiale Grazie.